Se non vuoi essere abbandonato da me, fai attenzione. Mickey, mio marito, mi guardava con un brutto sorriso. Anche mia suocera, che era accanto a me, sfoggiava un sorriso altrettanto inquietante. Proprio così. Ti sfrutteremo a fondo. Vedendo quella scena, trattenevo disperatamente le risate. Non hanno ancora capito che il vero equivoco era da parte loro. Fingendo di essere sprovveduti. Ho alzato la voce. Cosa? Non sono più la nuora di un mese fa. Dopo un po' si sentirono in lontananza voci vivaci dal salotto. Oggi i parenti si erano riuniti per festeggiare il completamento della nostra nuova casa. Gli ospiti invitati da Mickey e Melanie devono essere rimasti sorpresi dagli sviluppi improvvisi. Nel momento in cui si precipitarono in salotto, i loro volti impallidirono subito. Hai fatto una cosa scandalosa. Come hai potuto farlo? Non si preoccupi. Da questa parte era già tutto pronto. Ora inizia il contrattacco. Mi chiamo Epo Wilson. Sono un'infermiera che lavora in una piccola clinica in città. Vivo con mio marito Mickey e mia suocera Melanie. Ci siamo sposati un anno fa, quando avevo 29 anni. All'epoca lavoravo in un grande ospedale dove ho conosciuto Mickey come paziente. Mickey, che era stato ricoverato per una frattura ossea, sembrava essersi innamorato di me a prima vista e ha iniziato a perseguitarmi seriamente durante la sua degenza. Non ho mai incontrato nessuno gentile e bello come te. Ti prego di considerare una relazione seria con l'intenzione di sposarti. Dopo essere stato dimesso, Mickey ha continuato a esprimere con fervore i suoi sentimenti. Alla fine, la sua fiduciosa proposta di matrimonio da parte di un uomo che lavorava in un'importante azienda commosse il mio cuore. Ad essere sincera, anch'io desideravo fortemente sposarmi. Era un momento in cui mi sentivo pronta a sistemarmi. Anche se il nostro corteggiamento fu breve, un tale progresso era possibile per gli adulti che lavorano. Tuttavia, mio padre era leggermente critico nei confronti di questo progetto di matrimonio. Non sono passati solo sei mesi da quando vi siete conosciuti. C'è bisogno di affrettare il matrimonio? Sei sicuro che non ci siano problemi? Non c'è nessun problema.Papà, ti preoccupi sempre troppo. Sei cresciuto in una famiglia monoparentale, quindi è comprensibile che mi preoccupi. Ho perso mia madre quando ero giovane e da allora sono stato cresciuto solo da mio padre. Mio padre, che è molto impegnato, è attualmente impegnato in un incarico di lavoro all'estero. Alla fine mio padre ha approvato il matrimonio e siamo riusciti a celebrarlo. La famiglia Wilson aveva molti parenti, quindi fu un matrimonio in grande stile. Tuttavia, mi resi presto conto di una cosa. La mia felicità era arrivata al culmine in quel momento. E l'intuizione genitoriale di mio padre era stata corretta appunto al momento del nostro matrimonio. Mickey ci aveva suggerito di vivere insieme a sua madre. Il padre di Mickey era morto da qualche anno e lui era preoccupato che sua madre vivesse da sola appunto, essendo cresciuta in una famiglia monoparentale. Capivo il sentimento che si prova nel prendersi cura di un genitore. Comprendendo i suoi sentimenti per la madre, accettai la proposta appunto naturalmente ero consapevole del fatto che la convivenza avrebbe potuto portare ad attriti con mia suocera. Tuttavia, prima del matrimonio, sentivo che mia suocera era molto disponibile e allegra appunto per questo motivo abbiamo scelto un appartamento bifamiliare adatto a due nuclei familiari, prevedendo un impatto minimo sulla nostra vita. Tuttavia, questa aspettativa si è rivelata troppo ottimistica appunto contemporaneamente al nostro matrimonio. La personalità di Mickey e di sua madre è cambiata radicalmente e io ho finito per essere sfruttata da loro. Dopo il matrimonio, considerando la gravidanza, ho deciso di cambiare lavoro e di passare a una clinica senza turni di notte. Tenendo conto di questa situazione, mia suocera ha insistito sul fatto che avessi tempo e mi ha fatto pagare le faccende domestiche. Dopo il nostro matrimonio, consultare Mickey sulla situazione è stato inutile. Lui si è concentrato su una vita incentrata sul lavoro, lasciando le faccende domestiche interamente a me. «Prenditi cura di mia madre per me. Sono stanco per il lavoro. Non parlarmi di cose così banali. Cose banali. Sono davvero in difficoltà qui. Il problema è che non riesci a gestirle in modo adeguato. In genere ci si aspetta che le mogli gestiscano queste cose con abilità. Perché tu non riesci a farlo?» Mickey mi criticava sempre, insistendo perché gestissi meglio le cose. «L'uomo che mi aveva seriamente inseguito prima del nostro matrimonio sembrava aver perso completamente interesse dopo. La sua trasformazione fu per me una profonda delusione. Non mi aspettavo una situazione del genere ed ero completamente esausta. Tuttavia, non riuscivo a consultare mio padre. Non volevo disturbarlo così presto nella mia vita matrimoniale. Cercai di convincermi che Mickey e Melanie potessero essere stressati dal nuovo ambiente di vita. Ma il loro comportamento peggiorava di giorno in giorno. Mickey usciva spesso per andare a bere e raramente tornava a casa presto. I suoi viaggi di lavoro aumentarono e il tempo trascorso a casa divenne ancora più scarso. «La cosa più sgradevole era che Melanie usava una chiave di riserva per entrare a casa nostra. Senza permesso mentre io ero fuori. Prendeva i miei oggetti personali senza chiedere. Non solo gioielli e borse, ma anche vestiti che non le andavano bene. Quando ho trovato i miei vestiti costosi e stesi buttati sul pavimento. Ho quasi pianto e ho deciso di affrontarla. Per favore, non usare le mie cose senza permesso. Usare la chiave di riserva per entrare a casa nostra quando non ci sono è un'invasione della nostra privacy. Dissi. Tuttavia, Melanie ignorò completamente la mia lamentela. Di che cosa stai parlando? Spostarsi tra le stanze dei membri della famiglia è naturale. Non esiste la privacy in una famiglia, mi rispose. Ma in quel momento la mia rabbia ha preso il sopravvento e l'ho affrontata. Ti prego di scusarti. È assolutamente inaccettabile. Inaccettabile? Che esagerazione. Anch'io sono un essere umano. Non è irragionevole che ci siano cose che non posso perdonare. Se necessario, chiamerò la polizia. Ho avvertito. Non importa. Siamo una famiglia, dopo tutto. Basta così, replicò Melanie gridando. Scioccato dalla sua affermazione. Non avevo più parole. Quando Mickey tornò a casa, gli raccontai subito dell'incidente, ma lui non capì. Poco prima di lasciare la stanza per andare in bagno, Mickey mi ha detto freddamente. Mi aspettavo che tu avessi delle capacità come infermiera, ma sei davvero un incompetente. Ho sentito. È impossibile. Decisi in cur mio che dovevo divorziare. Non volevo far preoccupare mio padre, ma stavo riflettendo su come affrontare la questione e su come tenere testa a questa suocera e a questo marito. Qualche giorno dopo, Mickey mi propose improvvisamente di comprare una casa. Era entusiasta di costruire una casa su misura a suo piacimento, e io mi adeguai superficialmente. Tanto valeva lasciargli costruire la casa che voleva. Le molestie di Mickey e Melanie continuarono e io mi sentii sempre più scoraggiata. La nuova casa era quasi completata e... Mancava un mese al trasloco. Senti, il mese prossimo c'è il trasloco. Hai finito di fare i bagagli? Chiese Mickey. È quasi finito. Ho messo via i vestiti e i piatti che non si usano più, risposi. In un angolo della stanza erano impilati degli scatoloni di cartone. Vedendo ciò, Mickey fece un ampio sorriso. Buon per te, ti porterò anche nella prossima casa. Un incompetente come te è inutile ovunque tu vada. Sì grato, disse. Tuttavia, avevo già preso una decisione. Non ti seguirò più, ti prego, divorzia da me. Cosa? Mi rifiuto di lavorare ancora come servo per te e tua madre. Chiedo il divorzio. Dichiarai. Nel momento in cui pronunciai quelle parole, il volto di Mickey divenne ferocemente arrabbiato per la rabbia. Alzò la mano verso di me senza esitare. Quando me ne resi conto, ero a terra per il forte impatto. Non fare il presuntuoso. Non sei più una domestica o una moglie. Sei una cameriera. Paga centomila dollari per festeggiare la nuova casa. Una domestica. Appunto con la mano sulla guancia schiaffeggiata. Lo guardai incredula. Mickey, rivelando la sua vera natura senza nascondere la sua mancanza di umanità. Alzò di nuovo la mano mentre ero ancora stordita. Non solo la mano, ma anche il piede. E gli insulti verbali furono rivolti a me senza pietà. Io mi limitai a sopportare. Ma questo era solo in superficie, non avevano modo di conoscere le mie vere intenzioni. Dentro di me stavo pianificando la mia vendetta. Non potevo più accontentarmi di un semplice divorzio. Mickey non si accorse che stavo sorridendo mentre mi accucciavo. Un mese dopo ci trasferimmo nella nuova residenza. Era una casa progettata su misura. Alla cui progettazione Mickey aveva partecipato personalmente. La casa disponeva di una spaziosa camera da letto con un letto singolo, una sala fitness, uno studio, una camera da letto e una sala hobby per Melanie. Tuttavia, naturalmente non c'era posto per me. Anche un solo sgabello in cucina era considerato un lusso, come aveva detto Mickey. L'attenzione di Mickey per i dettagli risplende. Che meraviglia questa casa. Tua madre sarà felicissima di vivere qui. Questo mi rende un vero e proprio adulto. Sono soddisfatto di aver ripagato mia madre. Non potevo che guardare con occhi freddi queste superficiali dimostrazioni di affetto tra genitore e figlio. Sussurrai a bassa voce. Beh, che cosa meravigliosa. Sicuramente i parenti ne saranno sorpresi. Era una piccola trappola che avevo teso. Come mi aspettavo. Melanie si è subito lanciata a quelle parole. È un'ottima idea. Perché non invitiamo tutti i parenti in questa casa meravigliosa? Facciamo una festa per celebrare la nuova casa. Sì, è vero. Facciamolo. Magari mi vanterò anche con mio zio e i miei cugini. Emozionati. I due contattarono immediatamente i loro parenti e organizzarono una grande festa di inaugurazione della casa. Melanie, che era abile nel mettersi in mostra, era impegnata nei preparativi della festa. Appunto naturalmente questi preparativi comportavano lo sfruttamento di me. E poi. Il primo grande evento nella bifamiliare appena costruita ebbe luogo. Si riunirono una decina di persone, soprattutto parenti della famiglia Wilson. Con molte persone riunite, la casa divenne naturalmente vivace. Melanie, vestita elegantemente, salutò i parenti all'ingresso. Mentre Mickey mostrava con orgoglio il salotto della nuova residenza. Fedele alla loro natura di coppia amante delle apparenze. L'interno era adornato con decorazioni sofisticate. L'illuminazione indiretta e le piante d'appartamento creavano un'atmosfera piacevole. Mentre il tavolo decorato con fiori e frutta era rivestito di raffinate ceramiche cinesi e la musica classica. Suonava in sottofondo. Nell'home theater di Mickey, un sogno per gli hobbisti, venivano visualizzati sullo schermo affascinanti i paesaggi stranieri. Nel frattempo, io cucinavo costantemente in cucina. Gli ignari parenti di Mickey commentavano vedendomi al lavoro. April, stai andando benissimo. Mickey è davvero fortunato ad avere una moglie bella e diligente come te. Non è vero. Proprio in quel momento, Mickey si avvicinò e mi parlò. Vieni qui. Ah, ok. Avevo un brutto presentimento. Nonostante stessi ancora cucinando, Mickey mi tirò il braccio e mi condusse in un'altra stanza. Subito dopo mi seguì Melanie. Che mi fissò con uno sguardo severo. Ti ho visto felice mentre venivi elogiato da mio zio. Non è vero. Non mentire. Stavi sorridendo. Poi Mickey mi guardò e soddignò freddamente. Se non vuoi essere abbandonata da me, fai attenzione. Anche Melanie, in piedi accanto a lui, stava ridendo. Tuttavia. Decisi di non lasciarmi turbare. Ma avevo anche un piano. Guardai silenziosamente l'orologio a muro. Era quasi ora di iniziare il mio piano punto con un'espressione e un tono volutamente scherzosi. Dissi. Cosa? Non sono più la nuora di un mese fa. Cosa? Mentre mi guardavano scioccati, mi alzai con sicurezza. Vi ricordate cosa ha detto Mickey un mese fa? Che non sono più una moglie, ma una domestica. Melanie. Anche tu mi hai trattato come una domestica. Quindi pensi che non sia nemmeno una nuora, giusto? Cosa stai cercando di dire? Appena ho iniziato a parlare. L'atmosfera è cambiata e Mickey sembrava sopraffatto. Per un attimo non riuscì a nascondere la sua confusione. Nel frattempo, Melanie stava sbuffando proprio accanto a lui. Sì, esattamente punto dato che sei inutile come nuora, ti trattiamo come una domestica. Quando Melanie lo dichiarò, stavo già ascoltando il mormorio in salotto. Stava iniziando. Sorrisi segretamente punto è vero. Non sono più una nuora, né una domestica. Lascio questa casa. Nel momento in cui pronunciai quelle parole, il mormorio proveniente dal salotto si fece più forte. Mickey e Melanie notarono il rumore e cominciarono a farsi prendere dal panico. Cos'è questo suono? Eh, la mia voce. Quando i due si affrettarono a entrare in salotto, i parenti erano impegnati in un video che veniva proiettato sullo schermo. Era un video che per me era doloroso da guardare. Lo schermo mostrava un momento in cui Mickey mi maltrattava verbalmente e alzava la mano per colpirmi. Che cos'è questo Mickey? Esclamò in salotto. Il suo volto impallidì. Gli sguardi severi dei parenti erano fissi su di lui.Soprafatto dai loro sguardi, Mickey tremò.In realtà, avevo registrato di nascosto l'incidente di un mese fa. Il momento in cui aveva dichiarato che ero solo una domestica. Da tempo stavo raccogliendo le prove degli abusi di mio marito e delle prepotenze di mia suocera.Naturalmente erano necessarie per il procedimento di divorzio. Ma la mia rabbia non si fermava lì. Le avevo conservate come materiale per la vendetta. In particolare per oggi, che era un giorno speciale.Durante la festa di inaugurazione della casa, avevo impostato la riproduzione automatica del video. È stato un peccato scomodare i parenti, ma era un passo necessario. Mickey? Cosa significa? Che cosa terribile? Non potevo sopportare una cosa del genere.A. Questo è. Di fronte agli sguardi freddi dei parenti, Mickey era insolitamente inquieto.Cogliendo l'attimo, sbattei sul tavolo le carte che avevo nascosto. Ormai non c'è più scampo, quindi per favore firmate qui. Stiamo divorziando. I documenti per il divorzio che avevo preparato. Oggi mi allontano dall'essere quasi una cameriera.Divorzio? Non è uno scherzo. Solo una tipica disputa coniugale. Tipica? È normale maltrattare e picchiare la propria moglie? Questo non è un matrimonio. Sono stufo di te. Alla mia affermazione, i parenti annuirono uniformemente. Sembrava che mi stessero sostenendo.Dopo aver visto un video del genere, era chiaro chi fosse il colpevole. Mentre Mickey esitava ancora a firmare. Presentai l'ultima opzione. Inoltre, è chiaro che lei ha una relazione. Ho raccolto prove concrete anche di questo. Che cosa? Ho sempre avuto la sensazione che qualcosa non andasse nel modo in cui i suoi guadagni non aumentavano. Ho assunto un'agenzia investigativa per raccogliere prove concrete. Sembra che la sua relazione sia con la figlia dell'amministratore delegato di un cliente. Questa rivelazione avrà senza dubbio ripercussioni sulla sua carriera. Ho steso le foto e i documenti delle prove sul tavolo per farle vedere ai parenti. Le foto mostravano i due che entravano in un hotel. Non guardate. Per favore, non guardare. Mickey cercò freneticamente di coprirli, gettandosi in avanti. Feci fatica a reprimere le risate per il suo comportamento ridicolo. Chiederò una giusta quota di beni sia a lei che alla sua compagna. Dato che anche lei è sposata. Potrebbero esserci rivendicazioni anche da parte sua. Non è così. Non è giusto. Non era chiaro cosa pensasse esattamente di sbagliato. Come al solito, Melanie sostenne le scuse di Mickey. Di cosa stai parlando? Una relazione non è niente. Si potrebbe addirittura dire che è un segno distintivo di un uomo. Ti ho detto più volte che non sei adatta a essere una moglie perché non riesci a perdonare nemmeno questo. Sembrava che Melanie non avesse ancora capito. Non si rendeva conto che i suoi commenti stavano causando disagio tra i parenti. La guardai con uno sguardo freddo mentre valutavo la mia prossima mossa. Melanie, ti ricordi le cose terribili che mi hai fatto? Mentre lo dicevo, iniziai a giocherellare con il mio smartphone. In effetti, l'avevo impostato per controllare i video da questo telefono. Ho selezionato un video specifico e l'ho proiettato sul grande schermo. Mi hai imposto lavori domestici come il bucato e la cucina. Sei entrato nella mia stanza senza permesso quando non c'ero. Hai usato le mie cose. E c'è stata anche la volta in cui hai cercato di indossare vestiti che non ti stavano bene. Allungandoli al punto da non poterli più usare. Lo schermo mostrava il comportamento maleducato di Melanie. Venivano mostrate scene di lei che gettava il bucato e faceva i dispetti alla cucina. Quando il video mostrava Melanie che si intrufolava in camera da letto. I parenti delle donne emettevano un grido di sorpresa. Queste molestie sono state perfettamente riprese dalle telecamere di sorveglianza. Che cosa è questo? Filmare la nostra casa senza permesso. È una violazione della privacy. Melanie urlò con rabbia. Era troppo comodo per lei rivendicare una violazione ora. Quando prima aveva negato i miei diritti alla privacy. Filmare e rivelare ciò che accade all'interno di una casa è chiaramente una violazione della privacy. Ma a questo punto non mi importava più di nessuna accusa. Dopotutto. Era stata Melanie a irrompere nella mia stanza senza invito e a comportarsi a suo piacimento. Era chiaro chi stesse agendo in modo inappropriato. Sullo schermo si vedeva Melanie che. Robistava tra i vestiti e gli accessori. Sembrava una ladra. Smettila. Non guardare. Il volto di Melanie finalmente impallidì. Dietro di lei. Le parenti femmine commentarono. Anche Melanie. È terribile. Incredibile. Se qualcuno mi facesse una cosa del genere, chiamerei subito la polizia. Melanie era sempre più agitata. Ma io la indicai con decisione e parlai a voce alta. Quello che non posso perdonare di più è che tu abbia rotto un ricordo della mia defunta madre. Era una cosa preziosa e tu hai cercato di riderci sopra. Non hai pagato un centesimo per le riparazioni. Punto capisce quanto lei e suo figlio mi avete ferito in quest'ultimo anno? Senza alcuna empatia umana. Punto alla fine i parenti si schierarono dalla mia parte. Si misero dietro di me. Guardando Melanie e Mickey con aria severa. Melanie. Mickey. Chiedete scusa ad April. Proprio così. Non ti dispiace per April. Mentre Mickey e Melanie erano ancora riluttanti. La pressione dei parenti li ha spinti a scusarsi con me. Mi dispiace. Mi dispiace. Anche se le scuse erano insincere. Feci finta di accettarle davanti ai parenti. Spinto dallo zio, Mickey decise di compilare i documenti per il divorzio. Dopo averli firmati, mi sentii sollevata e ringraziai lo zio. Non preoccuparti. Se in futuro potrò aiutarvi in qualche modo, non esitate a chiedere. Hai avuto un periodo difficile. Se avrà bisogno di qualcosa in futuro, sarò qui per sostenerla, quindi si metta in contatto con me. Grazie. Ad essere sincero, ero un po' preoccupato perché erano suoi parenti. Tuttavia, alla fine, le azioni di Mickey e Melanie erano anormali. I parenti che si sono presi cura di me fino a quando non ho lasciato la casa mi hanno dato i loro recapiti. Mi dissero che potevo chiedere supporto in qualsiasi momento. Dopo che i parenti se ne furono andati. Rimasero solo Mickey e Melanie abiliti. Allora mi sentii più leggera. Il primo a parlare nella quiete del dopo è stato Mickey. Mickey, come previsto. Hai fatto una cosa scandalosa. Come hai potuto farlo? Anche Melanie trasformò la sua sorpresa in rabbia nei miei confronti. Ma non mi toccò più. Questo è ciò che si chiama raccogliere ciò che si semina. Ora presenterò i documenti per il divorzio. A breve prenderò anche le mie cose. Non lo permetterò. Dammi i documenti del divorzio. Mickey cercò di strapparmi i documenti di divorzio compilati. Tuttavia, proprio in quel momento, qualcuno che era venuto al posto dei parenti uscì da dietro di me e lo fermò. Se metti di nuovo le mani su mia figlia, farò lo stesso con te. Rapidamente girò il braccio di Mickey dietro la schiena. Ai, 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 papà. Al momento giusto. Apparve mio padre e io mi spostai rapidamente al suo fianco per garantire la mia sicurezza. Mio padre, il mio unico sostenitore. Era stato informato in anticipo. Si era precipitato dalla sua postazione di lavoro a distanza dopo aver sentito il mio progetto di reagire oggi. No, no. Era solo un piccolo scherzo che Mickey aveva chiesto. Non c'è più bisogno di fingere. So tutto. Che hai avuto una relazione e quello che hai fatto a mia figlia. Quando l'ho scoperto ero furiosa. Ai, ai, fa male. Quando la presa di mio padre si fece più stretta, Mickey gridò di dolore. Inoltre, mio padre era notevolmente più grande di Mickey. Da giovane si teneva in forma con la box e il football americano. Tuttora si mantiene con la corsa e l'allenamento con i pesi. Mickey, che aveva tra i suoi hobby la visione di film e la ristorazione e che era un po' sovrappeso. Non aveva alcuna possibilità di batterlo. E come padre single mi ha cresciuto con cura. Mio padre era ancora più consumato dal desiderio di vendetta di me. Guardò Mickey con uno sguardo agghiacciante. Per quanto riguarda la tua partner, in realtà è la figlia del presidente della mia azienda. Cosa? Allora lavora alla XIZ. Esatto. Sono il vicepresidente esecutivo della XIZ. Il volto di Mickey è impallidito in pochi secondi. Ho già riferito la questione al presidente. Inoltre, secondo la signorina, lei ha inizialmente nascosto il fatto di essere sposato quando l'ha avvicinata. Sebbene anche lei abbia una parte di colpa per aver continuato la relazione dopo che la verità è venuta a galla. Il presidente era molto arrabbiato con le sue tattiche. In quel momento, Mickey sembrava più desolato che in qualsiasi altro momento di oggi. Era la prima volta che sentivo che l'azienda di mio padre era collegata al posto di lavoro di Mickey. Mentre stavo ancora elaborando la sorpresa, mio padre, con un sorriso, tornò a rivolgere il suo sguardo severo a Mickey. Per la vostra azienda, la nostra è un cliente importante. Onestamente, ci sono molte altre opzioni disponibili anche senza i vostri prodotti. Ma a questo proposito, quando chiuderemo i nostri rapporti, mi assicurerò di informare il vostro presidente che, a causa di problemi da entrambe le parti, sarà difficile continuare gli affari. Tutte le transazioni saranno interrotte. Sentendo queste parole, Mickey urlò, e si accasciò a terra disperato. In questo modo, Mickey perderà non solo le sue prospettive di avanzamento, ma anche il suo posto in azienda. Le sue azioni avevano causato problemi all'azienda. Mickey era completamente svuotato di energia e rimase a bocca aperta. Accanto a lui, Melanie urlava a mio padre, che stava portando via i miei bagagli, chiamandolo demone, diavolo. Sentendo questo, mi chiesi se in realtà stesse parlando di se stessa. Ma la gioia di lasciare questa casa era più grande. Eccitato per il trasloco. Trasportai tutte le mie cose. Poi salii sul camion guidato da mio padre e partimmo. Quando il portellone si chiuse e le macchine iniziarono a muoversi, vidi nello specchietto retrovisore che ci inseguivano. Ladro. Lascia la cameriera e le tue cose. Pensi davvero che la mia azienda ti crederà? La perdita del contratto con l'azienda X-Aesi non ci danneggia affatto. Sentendo queste parole, rimasi sbalordito. Circondato da tanta gente. È incredibile che tu sia riuscito a vivere lì. Lo penso anch'io. Il loro comportamento vergognoso è stato doloroso da guardare fino alla fine. E sicuramente deve essere stato visto anche dai vicini. I residenti sbirciavano dalle finestre. Ascoltando le loro voci. Ho provato compassione per tutti coloro che dovevano continuare a vivere vicino a loro. Dopo aver girato l'angolo e averli persi di vista. Ho espresso la mia gratitudine a mio padre. Grazie mille per tutto quello che hai fatto oggi, papà. Non c'è di che. Farei qualsiasi cosa per la mia preziosa figlia. Disse con un sorriso. Il mio eroe immutato dalla mia infanzia. Più tardi. I documenti per il divorzio furono trattati con successo. Data l'abbondanza di prove, era naturale che Mickey fosse ritenuto colpevole. Ci accordammo anche sulla divisione dei beni. Sebbene la casa sia andata a Mickey, sembra che abbia difficoltà a pagare il mutuo per la nuova casa. In origine. Aveva fatto affidamento sul mio reddito di infermiera e aveva scelto solo materiali di alta gamma per la costruzione. In realtà quella casa lussuosa non era adatta alla nostra vita reale. A causa del carattere appariscente di Mickey, sia il titolo che l'ipoteca della casa erano intestati esclusivamente a lui. I suoi risparmi si stavano rapidamente esaurendo a causa delle ingenti rate mensili del mutuo. Sono davvero sollevato dal fatto che non abbiamo contratto un'ipoteca congiunta. Naturalmente, Mickey era anche obbligato a pagare la divisione dei beni. Oltre che da me, era reclamato anche dal coniuge della sua partner poiché il presidente della sua società controllava i pagamenti. Non c'erano ritardi nei pagamenti. Il presidente aveva deciso di assicurarsi che il risarcimento sarebbe stato versato per riconquistare la fiducia e stava prestando molta attenzione. Anche ai pagamenti a me. Mickey si sentiva a disagio sul posto di lavoro e si trovava in una situazione di disagio psicologico. Era di fatto emarginato dall'azienda. Come si è arrivati a questo punto? Resta da capire per quanto tempo ancora Mickey, che è sempre stato ostentato, potrà sopportare le circostanze attuali. Inoltre, anche la figlia del presidente, che era la sua compagna di relazione, ha divorziato ed è stata licenziata dall'azienda di famiglia, la Ex-Ise Company, dove lavorava in precedenza. Ho anche preteso con fermezza le sue scuse. Avendo vissuto una vita viziata come figlia del presidente, probabilmente non si sarebbe resa conto dei suoi errori senza passare attraverso una situazione del genere. Ora deve affrontare la dura realtà della società. Mentre Mickey deve affrontare il duro contraccolpo di una società che un tempo considerava con leggerezza. Entrambi sono terrorizzati ogni giorno dalle enormi somme che devono pagare. Nel frattempo, Melanie ha iniziato un percorso di autodistruzione. Sapendo che il figlio è in difficoltà economiche, ha iniziato a lavorare part-time. Ma ha commesso una cattiva condotta. Ha rubato di nascosto molti prodotti alimentari dal supermercato in cui lavorava part-time. Quando i numeri dell'inventario non corrispondevano, il direttore, che sospettava qualcosa, ha controllato le telecamere di sorveglianza e ha sorpreso Melanie mentre prendeva di nascosto gli articoli. Quando è stata interrogata. Non ha mostrato rimorso e ha riferito di aver litigato. C'è così tanto qui, che un po' va bene. È perché sei così avara che questo negozio non sta andando bene. Inoltre. La donna è rimasta scioccata nell'apprendere che aveva rivenduto online parte della merce rubata. Queste azioni hanno portato al suo arresto da parte della polizia e la donna è diventata una figura nota nella comunità. Anche dopo essere stata rilasciata. Sembra che viva in quella casa, ma è ben lontana dalla bella casa che era un tempo. Ora è completamente in rovina. La casa, costruita per mantenere le apparenze, cadde presto in rovina a causa della mancanza di una regolare manutenzione. Anni dopo. Venni a sapere che nella comunità era conosciuta come la casa dell'immondizia. Un giorno, tre anni dopo il divorzio, mi ritrovai a riflettere profondamente sul matrimonio. Incoraggiata da un amico, decisi di risposarmi con una persona gentile e di buon cuore, che mi capisse e mi sostenesse emotivamente. L'ho presentato a mio padre, che ha subito dato la sua approvazione, e ho provato un vero senso di sollievo nel ricominciare la mia vita matrimoniale. In seguito, fummo benedetti da due energici bambini gemelli e la nostra casa si riempì di vitalità. Tuttavia, fare il genitore era impegnativo e il generoso sostegno dei nostri genitori era indispensabile. I miei suoceri erano persone di buon cuore che hanno sempre dato valore alle buone maniere e hanno continuato a rispettare le mie opinioni e i miei pensieri di genitore. Dopo aver superato le difficoltà e le sfide del mio passato, sono stata profondamente grata di aver incontrato persone così meravigliose. Anche mio padre ama profondamente i suoi nipoti e le sue espressioni felici e affettuose quando è con loro sono diverse da quelle che ho visto prima. Cocu, guarda, è il nonno. Oh, papà, il tuo viso è così spoglio. Davvero? E così? Lo pensi davvero, sebbene mio padre cerchi di comporre il suo sorriso, ritorna rapidamente alla sua espressione gentile, incarnando completamente il volto di un nonno. Guardarlo mi fa sentire oltremodo felice.accanto a me. Mio marito sorride calorosamente e si appoggia ai vestiti. Grazie per avermi benedetto con dei figli così meravigliosi.continuiamo a essere felici insieme.Si, grazie mille.Per il futuro. Mi impegno a coltivare una famiglia affettuosa e calorosa.Insieme alla mia amata famiglia, non vedo l'ora di costruire una nuova felicità.